Estate, tempo di vacanze. C'è chi veleggia verso isole lontane e chi invece ne approfitta per stare in famiglia. E questo è il caso della bella Elisabetta Gregoraci, che insieme a Flavio Briatore è arrivata da qualche settimana in Sardegna, dove lui deve occuparsi del billionaire, il noto locale sulla costa Smeralda. A fare compagnia ad Elisabetta, mentre Flavio si occupa dei suoi affari, ci sono il piccolo Nathan e la sorella Marzia, con suo figlio Gabriel di due anni. Le due sorelle nei giorni scorsi hanno rilasciato un'intervista al settimanale Gente, dove dimostrano un grande affetto reciproco ed una complicità diventata più forte dopo la perdita della loro mamma. Le due dichiarano di sentirsi ancora più unite dopo il lutto che le ha colpite e sono felici di poter condividere il poco tempo che hanno a disposizione, vista anche la loro lontananza. Infatti Elisabetta vive a Monte Carlo, mentre Marzia abita soverato con la famiglia. Ma la cosa più bella per Elisabetta e Marzia è stata quella di vedere i loro figli giocare insieme. A quanto pare Nathan è molto protettivo nei confronti del cuginetto Gabriel e lo ha presentato a tutti i suoi amichetti.